Allora, io facciamo introdurre i posti romani Poi siccome non sono un moderatore professionista, ho inventato questo metodo brevettato per mettere a disagio i miei autori che io chiamo la coppa dei supplizi, qui ci sono tutta una serie di domande che adesso la mia padante passerà per il pubblico e poi dopo gliela farete voi e poi dopo l'una la fa l'altra, vediamo come metterle più in soggezione possibile Ovviamente sono tutte domande abbastanza Allora, intanto parli di Giulia o Giulia Mi piace un'altra domanda Sicilia è un fantastico psicologico per esempio è una situazione attuale di attualità Per farlo ho scelto di dividere soggetti perché contemporanei C'è l'adesso, quindi il filone, quello realistico E poi invece sono loro, lui fiscia e giocosa In senso che due momenti, quello del passato, del futuro di Giulia svolge la vita di questa donna come Giulia che incontra il protagonista Cosco e che lo porta quindi nel passato, nel futuro, perché lui deve salvarle la vita Ma il punto fondamentale è che forse il suo incontro che questa donna ha sfruttato Nella testa, nella realtà, se ne innamora In un momento particolare della sua vita Che è in cui il suo moglie ti dice di essere il figlio E quindi è un suo percorso anche Questo è una situazione, un suo percorso anche umano E personale per scoprire Scoprire il vero significato della paternità Nonostante la passione, i sentimenti Tanti Io ho un po' molto interessante questa cosa Dei tre piani di scorrimento parallelo della storia Che in realtà poi hanno come filo conduttore La crescita personale e dei personaggi Poi dopo l'inizio, alla fine, attraverso questo viaggio che lui fa Riesce a capire l'auto dei miei sentimenti Per famiglia e poi anche della paternità Una scusa, insomma Per descrivere questo viaggio interiore Tina? Alessandro Romagna Duar Si tolge a Napoli E ha per poter ministra una studentessa universitaria Questa studentessa universitaria appartiene alla Napoli Bene Quindi una borghese lontana totalmente da quelle che possono essere le tradizioni culti del popolo Avviene che una sua collega dell'università viene uccisa E viene ritrovata con inula la saggina La saggina è la... La scuola? Si, quella con cui vengono fatte le scuole delle streghe Questo porta la sua amica a ripercorrere, a conoscere per la prima volta Una Napoli che a lei, ragazza borghese, era del tutto estranea La Napoli dei misteri, dei fantasmi, delle superstizioni, dei culti E c'è anche la polizia che fa le sue indagini E la storia cammina su due tracce Una, quella della camorra, della realtà L'altra invece, che continuamente si interseca con quella della vita attuale Fatta invece di ricordi del passato Di fantasmi che tornano Di storie del passato che tornano E di superstizioni che si attualizzano Nella Napoli moderna E soprattutto però in questa Napoli Che vive di camorra Ma è un... risulterà poi essere un omicidio seriale in questo? Quando lo possiamo dire? No, lo posso dire perché lo capirà il lettore O darà la sua ipotetica spiegazione a cosa è accaduto La protagonista è la ragazza universitaria È la ragazza universitaria Che vede le due facce in Napoli Quella di destante e poi quella scampiglia Esatto, no, quella proprio dei quartieri storici Della sanità, dei vergini Non di scampiglia, scampiglia è una camorra moderna È una camorra che non ha storia Ed è terribile Invece esiste un altro tipo di camorra Antichissima Che vive nei quartieri storici di Napoli Nel centro di Napoli Che però si ancora proprio a questi culti A queste superstizioni A queste tradizioni Anche alla fede Una fede completamente falsata Però che vive di questo strato culturale E' invitata i giorni nostri? Sì, sì, abbiamo andato nella Napoli oriente Allora, l'ultimo libro che hai letto? Ah, è un letto a Bragatoria della Murcia L'ho letto proprio adesso L'accappatoria della Murcia E' difficile L'accappatoria della Murcia Hai letto l'altro libro? Vabbè, ma è difficile Insomma, il tempo di un altro Vabbè, ma è difficile L'altro giorno L'hai letto questo libro? Era proprio l'ultimo volante L'ho letto a Camiello Il 2009 Prevo a Camiello? Mi affido che sia il 2009 Però l'ho trovata molto bella Mi ha preso tantissimo questo libro Sia per come è scritto Sia per quel pizzico di magia Che ci sta dietro Sì, sì E infatti la cosa che mi è piacere È che io Mi scontrovo vedere Che proprio qualche giorno fa Sono andata sulla pagina della Murcia E ho scritto uno dei libri più belli Che ho scritto lei Mi ha risposto grazie E che qualcuno Che sta all'altra pagina Di un personaggio famoso Quindi che sta dietro la pagina Di un personaggio famoso Ti dice grazie Per me è stata una soddisfazione Sei assunto come ghostwriter Della Rowling La trama dell'ottavo libro di Harry Potter Per carità Non ne ho mai letto uno Licenziata Licenziata immediatamente E' troppo facile Però Non potremmo Harry Potter L'archetipo del fantasy Che più detesti Beh dai Ce la puoi fare? Ce la puoi fare? Scusi Chi ha pensato una domanda Una poesia a memoria Tu sai una poesia? Dai così Aspetta Aspetta Fammi te lo cagli Io la sapevo Questa è il San Mar Aspetta Ce ne ho una brevissima Di un vero rete Esatto Eh dai Gli albi Si sta commesso Aspetta Si sta commesso Gli albi Di inverno No No Scusi Scusi Ma è venuta in mente L'acqua sia mia La nebbia Aglirti colli Io vi gigante Sale Sotto il mare sale Urla e biancheggia il mare Ma è venuta in mente Ma è venuta in mente Ma è venuta in mente La prima lì dei vini Sta l'aspro d'or dei vini L'anima tra le sassi Gira su c'è il piaccese Lo spiego scoffiettando Sta il cacciatore Mi schiavano Bravissima L'uscia a rimirà Ma è venuta in mente Comunque non era Quello di San Martino E' venuta in pazza Tra l'altro sto strenuto Dormi di uccelli neri Com'è su li pensieri Nel vespero mi dà Voglio una pausa Bravissima 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 Era una canzone quella Era una canzone quella Esatto Esatto E' una canzone famosa Vai E' una medley di tre poesie Come? E' un medley di tre poesie quella canzone Vabbè io quella canzone L'unica che sapevo insomma C'è non c'è Tocca a me? Si Ah a lei non la posso fare Quindi a lei Secondo te Harry Potter Per dover morire E si Tanto per creare una cosa diversa Questo happy ending Questo happy ending Questo happy ending A tutti i costi Di hollywoodiana Diciamo caratterizzazione E' antipatico Perché tu togli comunque La suspense Poi magari facevamo l'unica Che ne so Dalla cosa scappava fuori Insomma Facciamo un sequel del serio Ma io l'ho riuscita Eh Anche perché per avere 17 anni Ne aveva fatte già passate Ha sconfitto il più grande male Cioè che puoi fare dopo Cioè ad un supermercato Comunque non sarà la stessa cosa Che uccidere il signore del mare L'ha rivolto a tutti e due Una critica positiva al tuo romanzo Critica positiva Cioè che la devo pensare No Che ti hanno fatto Che mi hanno fatto positiva Sì Una critica positiva al tuo romanzo E me l'ha fatta Angela E la tua domanda Poi No Carta canta Carta canta No vabbè Sì Però sono un po' imbarazzata Di questa Poi per cambiare questa domanda No no rispondi E poi dopo Volverete anche tu Per rispondere anche tu Ma una critica In senso di critica Cioè una critica Secondo me Io l'ho interpretato Come una cosa Giustare a prendere il tempo Cioè un pregio Un pregio Un pregio Un pregio di risalti Bene del tuo romanzo Mi è piaciuto questo Non mi è piaciuto quello Non so Potrebbe essere qualsiasi cosa Però positiva E' positiva E' positiva E' positiva E' positiva C'è anche quella negativa E' positiva E' capitato E' capitato Anche lei Anche lei voi risponderà L'hai già bandaggiatta E mi ha fatto a pensare L'hai già bandaggiatta E mi ha fatto L'hai già bandaggiatta No vabbè Comunque è piaciuta Diciamo una persona Che non è presente La critica Della Miriam Del palco di Pan Che ha capito Praticamente Che c'era proprio Questo percorso Umano Dietro il libro E che lei è piaciuto L'esperiente Che io avevo utilizzato Per mostrare Lo chiamo Un po' più originale Diciamo Almeno spero Nel mio intento Almeno era quello L'ha colto Ecco Chiamo originale Per dare questo messaggio Senza il mio bene Di scritto racconti E la gente la voglia Allora Accendo a un pericolo Il tuo romanzo Allora Faccio un pericolo Allora io In effetti Avrei dei seguiti Nel mio romanzo Che però Temporalmente Si spostano In avanti Dando Diciamo Il taglio Comunque Cerco di giocherò Anche il futuro Diciamo Sui denti Ed è basato Sul Sul fatto che Appunto Una delle sue vite Quella che si chiama Giocosa Ambientata Nell'antica Roma Strix è giovane Quindi nasce E tutte le streghe Ciascuna Un'arma bianca Particolare Per loro In questo caso C'è un pugnale Quindi questo prequel Sarà passato Sul fatto che C'è il fabbro Del mariscalco Del paese Insomma Che prepara Il pugnale Per lui Ed è Diciamo Il suo amore Quindi Nel prequel Lei avrà un Questo screenshot Del suo passato Di questa sua vita passata Con questo mariscalco Invece Il prequel Di questo romanzo Già esiste Attende solo Che un editore Lo Il prequel Già esiste I personaggi Sono gli stessi E del momento In cui per la prima volta Si incontrano Determinati personaggi Del libro Che in questo libro Già hanno Determinati Intimi rapporti Tra di loro Lì invece È la prima volta Che vengono a contatto L'uno con l'altro Quindi già c'è Se il tuo protagonista Ti incontrasse Cosa ti chiederebbe Mi chiederebbe Perché hai fatto le femmine Tanto più intelligenti di me Era un uomo protagonista Certo Tu mi hai fatto una domanda Protagonista C'è anche un uomo protagonista Ecco mi chiederebbe Come mai le donne Del mio romanzo E le buone E le cattive E le giovani E le vecchie Sono tutte Molto più in gamba Di qualsiasi uomo Che apprendete all'interno Che mi sembra La mia Questa è un uomo Che è un dato di farlo E' un uomo 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 Aspetta Dite La domanda che ti è stata fatta Adesso rispondi Perché? Perché? Perché è vero Che le donne Sono più intelligenti Perché hanno fatto E' un uomo Il uomo E' un 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 uomo E' una cosa E' un uomo E' un uomo E' un uomo E' una cosa E' una cosa Che i uomo E' una cosa Poi riescono a pensare bene una cosa, poi riescono a pensare così, così, qualche altra cosa. Le donne hanno invece la capacità di riuscire a pensare bene una serie ampia di cose, però non è un fatto di cattiverio, di portate, è perché la donna dà la vita e dà la cura da sempre, da quando era la donna dell'epoca preistorica, la cura dei propri cittadini e questo l'ha portata a dover sviluppare una serie di capacità di protezione del piccolo e l'ha fatta furba, le ha dato una capacità di giudizio maggiore. A mio padre la vedo. Ma io sono assolutamente d'accordo, per quanto non ti li ha proprio mulino, sono assolutamente convinto che si sopporte sempre donne e che... Anche perché sei minoranza. Ma io la penso veramente, ok, lo penso veramente. Ho già dedicato con il mio cognato per questa cosa qua, perché diciamo che le donne... Anche perché ci sono tante cose che affrontano le donne, senza parlare nello specifico, che un uomo non sa neanche cosa può significare affrontare il lungo e... anche se fosco ti incontraste. Grazie che mi ha ricordato la domanda. Allora beh, probabilmente... direte perché mi hai fatto così intelligente. Anche qui in effetti ci avrebbe da dire qualcosa, perché mi hanno fatto travagliare così tanto che arriva a trovare un senso ultimo alla sua vita, per cui insomma di partenza non era così insomma ben dotato, diciamo, ha dovuto fare il suo percorso di vita. Però diciamo, come iniziavo il libro? Cioè bene, posso comprare una casa? Sono tutta apposta, perché la voglio, sono in gira, mi volevo dire, lascia in pace, cioè sei apposta apposta qui, finivi a pagina 3 e mi sapevo un po' di roba insomma. E invece tu risposeresti? No, perché dovevi... Perché dovevo riempire un po' di... Perché se non mi sarebbe fermata pagina 3, perché sarebbe la nuova Peppa Picca praticamente, c'è più quello per bambini e per pagina. Grazie Fabio. Perché dovevi fare questo perché ho fatto per il tuo bene, ho fatto per il tuo bene, perché dovevi maturare alcune cose. Scusami, ti racconto. Stare strago io. Il tuo odore preferito è perché? Allora, io ho un odore preferito, però essendo io un fonte fattessimale e essendo questo nome è difficilissimo, perché è costituito da un nome e un cognome, sono due nomi, quindi insomma se Andrea De Carlo, Carlo De Andrea. Andrea De Carlo, molto bello. Ti piace questo Andrea De Carlo? Perché anche se la sua storia è un pochettino, come dire, ripetitivo, però a me piace molto e anche se i termini a volte lo utilizza, sono sempre quelli, però a me piace molto questo suo modo che ha di indagare, rapporti di coppia e trovo che sia molto bravo a rappresentarli per quella che è la società moderna. Quindi anche se varia poco, a me per poco mi basta, perché comunque mi piace come scrive e ogni volta diciamo mi trascina, insomma. C'è qualcosa di andare a regarlo agli stessi di Giulia? Beh, forse qualche termine che lui usa, a me piace molto quando lui usa per esempio la non attenzione, quando mette il non davanti alle parole, mi piace molto perché tu c'è attenzione, poi sempre sì, disattenzione in questo caso è semplice, però molto spesso non è facile trovare la parola che sia esattamente l'opposto. Mettendoci questo non davanti, io lo trovo molto intrigante. Sì, perché è una sottilezza notevole, perché non è disattenzione, è la non attenzione, cioè è una non affermazione e non navegazione. Esatto, e quando la utilizzo, la utilizzo sempre a mio avviso, ovviamente perché mi piace in modo opportuno e a senso, e quando le trovo, le ritengo fortunamente esposte, quindi mi piace molto, quindi me le godo queste non cose. Allora, io scendo... Jackie Rowling immagino, no? No, no, è il mio autore preferito da sempre, Thomas Mann. Io adoro figura, l'avrò letto un'infinità di volte, non so nemmeno io quante, e mi piace la sua capacità di raccontare una storia in fondo fatta di nulla, è la storia di una famiglia borghese, industrialotti tedeschi, si sposano, i figli, non c'è mai romanticismo, non c'è mai la storiettina d'amore, è una storia, lui racconta queste cose che però riesce a farci calare in questa realtà, a darci un'idea chiara di uno spaccato di vita, come era con tutte le polemiche, perché questo è un storiero però per criticare quel mondo e ce lo fa vivere oggi, lo so, senza mai cadere nella banalità, nel romanticismo, io ho un libro bellissimo, ecco, però nel mio libro non c'è nulla ovviamente perché da me c'è una famiglia borghese, sì c'è solo la borghese in comune perché io amo molto parlare, mi piace molto scrivere della borghese perché è una classe sociale che non scrive mai nessuno, o c'è stato scrivere dei ricchi, degli agiati, delle loro vite, incredibili, o dei poveri perché purtroppo spesso per motivi di delinquenza, di quartieri periferici fanno scoglie, ma il mondo è fatto soprattutto da una classe borghese, da una classe di persone che vivono una quotidianità, che però sono loro poi a essere la parte più forte del mondo, senza la borghesia non esiste niente. classe media non vuol dire mediocrità, no, assolutamente, infatti ho questo, e della classe che mi piacerebbe tanto raccontare le mie esprime. Credo che spesso borghese si diversa, cioè non si nasce come nobili o poveri, invece borghese magari è un avanzamento di stato, poi siamo poi tutti borghese, insomma, perché è stato un po' come termine di spaggiativo, e invece non è proprio, è un'altra? No, perché se il tuo gioco non mi piace, non vuol dire che gli chiedo cosa ne pensi in Twilight, perché... A me in Twilight mi è piaciuto molto, devo dire, invece, lo sai, il primo. Il primo Twilight mi è piaciuto, perché comunque, anche se era un tema così un po' abusato, questo qua, e là sotto sopra c'era, l'ho trovato stesso, l'ho trovato stesso. Gli altri, sì, sì, gli altri invece non mi sono piaciuti, però il primo sì, gli altri poi ne sono dovuto scambiare. Stavo cercando una domanda perché riguardassi i libri. Esatto. Sto diventando gay. No, questa è una delle mie presenti, ma la vengo per l'ultima. Tu stai un po' scombinando la logica della coppa, cioè... E che volevo che parlassi un po' dei vostri libri. Non l'ho fatto domanda, è l'ultima. Ma non possiamo più noi? E' già, è il pubblico, così. No, questa è la mia. Intanto che facciamo un altro giro, questa è la mia. Leggi il tuo incipit e dici quali erano le tue intenzioni nello scrivere quell'incipit. C'è che... Buonasera, la voce si perse nell'ingresso dell'appartamento e messo nell'oscurità. Elena stava per accendere la luce quando Adriana sorpresa le chiese chi è salutato? La casa, lo faccio sempre, altrimenti si dispiace. la casa si dispiace. No, risiede Elena, l'Ambriana. Non lo sai che quando entri in una casa vuota devi sempre salutare? E perché? Se no l'Ambriana si offende e la fortuna esce e se ne va. Perché l'ho scritto... ... ... ... ... ... ... Per far capire subito che il romanzo riguardava il linguaggio attuale, due ragazze, quindi siamo oggi, però subito compare un aspetto, la superstizione di salutare la casa e l'Ambriana, che è questo nome tutelare, è legato alle tradizioni. Quindi c'era in questi righi già quello che poi sarebbe stata la storia del romanzo. Allora, qui c'è il primo mese con le righe sulla gestazione del primo mese e la risparmio, insomma. Posco aveva scelto con tutta una ragazza da comprare, quella che avrebbe condiviso con sua moglie d'aria fino alla fine dei detti. Aveva dovuto fare conti con la banca, con quello che offriva il mercato, con le esigenze sue e della sua compagna, ma non aveva avuto tenta. La fine acquistata che aveva rivarcato in ogni occasione, anche quando l'idea di traslocali aveva la consutenza di un concetto astratto. Era stato ansioso di piantare le radici, condizione necessaria per affrontare il futuro in modo sicuro, per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. E questo è la unica per dare l'idea di quello che era il carattere di Cosco, quindi una persona molto metodica, esatto, decisa, con degli obiettivi per cui il colpo di pugnire lo trasforma, si convolge la un'incidenza scatenante che rompe questa routine. Infatti poi, adesso, perché non l'ha letto nessuno, mi aveva di Boa, c'era un terzo del libro, ma non mi sono fermato perché non mi piaceva, perché poi si accavallano le cose a fare e quindi ricominci cinque. L'hai preso ieri, tu hai preso... e poi l'ho preso io. No, l'ho preso a... Sì, l'antorino l'ho preso. E... ho trovato molto bello che, anche intrigante, che, oltre che scandito da questa... questo triplo binario dei tre tempi che si sono occupati l'uno con l'altro, i capitoli che sono sull'adesso sono segnati dalla definizione dello sviluppo del feto a livello scientifico nei nove mesi di gradianza, che lo trovo un espediente narrativo molto intrigante per dare la scansione del tempo, di un qualcosa che incompe, no? Sì, perché poi, ovviamente, crescendo, uno dice si forma questo, si forma quello, l'ingrino è pronto, piuttosto che... no? Sì, quindi, invece che sottolineare tipo, mancano cinque ore, mancano sei mesi, mancano... In questo modo, tu hai comunque la percezione di qualcosa che sta, evolvendo, senza necessariamente doverlo dire in maniera troppo di rastraga, questa è la prova di un'altra cosa, per avere quelli di te. Questa è, da quando ti farà una domanda una clinica positiva al tuo romanzo, puoi dire... una dedica al tuo romanzo con la parola zanzana. Se tu vuoi si fare una dedica al tuo romanzo, invece scelgo la parola zanzana. Allora, che il romanzo punzecchi la vostra fantasia come... 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 non mi dite. Però sono quelle più... che rimangono più impresse. Vai. Allora, mio caro amico, a te questo romanzo, sperando che tu non lo stai a cicare la prima torre. Una bella è così, è meravigliosa. io... mi sento, infatti ne avevo una che era su quella linea lì perché ne ho fatto una serie di quelle lì. Vai. Che faccio andare? Quello che gli scrittori non dicono. Chi vuole andare prima? Beh, allora, se posso dire io quello che ho cercato di metterci, ho cercato di limitare un pochettino la parte, diciamo, un po' più... si può usare la parola sessuale? In questo libro perché non volevo, volevo che fosse un target diciamo, più possibile eterogeneo mentre invece se tu lo caratterizzi troppo sotto certi punti di vista diciamo, il target ovviamente si riduce. Quindi ho cercato di metterci quel poco che fosse necessario senza che cedere. Quindi quello che loro ho detto è che magari di primo ho visto come era la storia anche molto passionale avrei potuto succedere di più su quelli che erano i desideri di Fosco che sono espressi ma non proprio come poi sarebbero quelli di un uomo veramente innamorato e follemente innamorato come possiamo immaginare insomma. Io quello che ho cercato di non mettere nel romanzo non è mai parlare troppo dell'amore inteso come ti amo ti voglio bene mi sei caro la carezza cioè queste cose che finiscono spesso per essere sdolcinato e dare dei sogni rosa già che io non amo assolutamente leggere romanzi d'amore ho cercato di far vivere che a tutti i personaggi l'amore è una passione come sessualità come ma mai un aspetto che possa essere un amore romantico questo è da parte della tua serie una dedica al tuo romanzo con la parola astronave che questo romanzo ti possa portare nel passato ti possa lanciare nel passato come un'astronave potrebbe farlo oggi verso l'aluna verso lo spazio questo deve essere meraviglioso quando uno può vedere davanti alla pagina bianca c'è una cosa scherza una frase molto standard invece se qualcuno poi mi ha risposto male però all'inizio lo facevo cioè delle mie avendo letto magari il libro oppure sapendo qualcosa del libro chiedevo mi fa e mi ha detto alcuna la parola che riguarda il tuo romanzo poi qualcuno mi ha risposto male smesso e poi in questo momento non è stato filmando tanto e per cui si deve sforzare non è fatto però perché ti dà una parola e tu quella parola costruisci qualcosa di anche molto questa parola arranchi nella testa nella speranza di trovare qualcosa da scrivere di originale solo per lui esatto e non ce la fai perché hai i piedi stretti poi sia quando voi ti dicono mirare ui sono un sacco di barzellette mirare a punto tu no non le ricordo è così è una poesia che poi ne rimenticiamo ah c'era qualcuno che aveva no lei non ha risposto l'astronave una cosa è che mi piace vedere i tacchi degli autori della roma c'è chi sfrutta allora per un amico spero che tu possa trovare il posto per il mio romanzo sulla tua astronave che vuol dire che il mio romanzo è andato avanti è diventato un classico è diventato un classico ma io se non l'avete fatta quindi quella che avevo io la parola era l'erogia c'è anche quella scusa c'è qui la scritta volete un picchio d'acqua faceva parte e uno è detto l'attenzione facciamo no c'è scusa dove è l'acqua? no in realtà non c'è l'acqua non se lo vuole non se lo vuole se lo vuole il perché del nome dei vostri personaggi oh il nome però no però aspetta perché si inizia a me ci vede perché devo rispondermi ma io sì rispondimi allora per dire i nomi dei nomi che mi piacevano alcuni c'erano nomi storici che erano molto collaterali l'unica cosa che ho fatto spontaneamente ho fatto in crisi che tutti i personaggi femminili principali della storia avessero tutto il nome che cominciava con la lettera A potevo scegliere anche un'altra lettera perché volevo rappresentare la donna A e la donna che poi si chiama Adriana Agnese Aurelia però sono varie sfaccettature dell'essere donna e già che poi lo legge capirà tutte le donne si uniscono in quest'unica che è la loro caratteristica nei confronti del popolo allora io ho una predilezione perché tutti i nomi che abbiano una origine latina quindi tutti i protagonisti hanno nomi appunto di questa scendenza in particolare infatti sia Cosco sia Giulia sia Dalia sono nomi che sono un redaggio del nostro passato così antico e siccome man mano i libri diminuiscono io cerco sempre insomma del range di nomi che rimangono di origine latina quelli che mi piacciono di più da utilizzare quindi non ho particolari preferenze però questo è un retroscena importante perché spesso uno non immagina che se i personaggi sono tratteggiati in maniera soddisfacente magistrale uno le consiglia delle persone normalissime e le persone normalissime non hanno una scelta di nome lo scelgono i genitori quello che ha i bambini quando invece un autore è come un padre o una madre nel nostro caso che deve dare nome ai suoi figli dei quali sa molto di più di quello che sa un genitore appena il figlio è nato perché tu costruisci il personaggio quindi il nome che si sceglie è nome no man cioè da il vecino esatto rispetto a il questo è il tuo figlio che ce l'avevamo questa è la lei in qualsiasi papiro una figura della mitologia fantasy e non al quale vorresti dedicare un filone narrativo che non esiste un filone narrativo inedito no non necessariamente però se c'è una figura dedicare un filone narrativo no non mi verrebbe c'è un personaggio che mi piace tanto cioè mi è piaciuto tanto a me piaceva tanto il Fortuna Draghi di quanto mi piaceva ecco forse mi piacerebbe se dovessi scrivere un fantasy una storia come quella perché il fatto che tu lettori entrambi i libri che mi ha detto dal ragazzino era il libro del libro si era bellissimo ma guarda cazzo non ne sa niente assolutamente sì però perché lui c'ha un libro nella sua teoria sì ovvia c'è Fabio Ciccolani che scrive un libro il quale diventa il come dire la linea principale di seguita poi dai protagonisti del libro medesimo e lui stesso alla fine finisce all'interno del suo libro molto bello perché il treccio è anche chiaro la mia presentazione adesso no no perché questo è molto apparente nel personaggio fantasy io volevo proprio dire non personaggio ma anche uno e doppio cioè mi piacevano i tuoi gemelli Alfomega delle biblioteche di omnia e se bene siano i protagonisti alcuni dei protagonisti non sono protagonisti di una storia solo loro ad hoc per loro no qui sono quasi come dire il cento per cento loro i protagonisti dividono un po' lo scenario le altre due fanciulle poi comunque con il cattivo l'antagonista è quello di cui il libro tratta la tua sconfitta esatto e che però un filore con le loro avventure visto che hanno anche dei poteri particolari, delle caratteristiche particolari, non mi piacerebbe, quindi se lo fai verso sempre, poi mi attribuisci la maternità, la dedica, perché ho dato l'idea e se lo voglio. E' un filone con il giro di offre la casa. Poi facciamo l'estrazione. C'è qualcuno su Magali di domande che non è qui, sto volando. Ma io che farei prendere una anche al editore? Eh, ho provato. Perché è complicato? Esatto. Come hai scelto per le letture? Sei un editore. Ma facciamo leggere quella del editore? Eh, fai. Eh, facciamo, la faccio io? Sì, sì. E questo qui è proprio per due. Allora, che voto daresti al tuo romanzo? Non so che risponderebbe la propria. Eh, terribile. Eh, terribile. Ma bisogna dare una scala di valori da tot a tot? La direi da 1 a 10. Da 1 a 10, ok. Ma come è una cosa estremamente personale, non che deve essere un giudizio oggettivo. Sì, è tanto un po'. Cioè, tu, alla luce di aver scritto il tuo romanzo, sei soddisfatta? Se io metto, dovessi fare tutti i romanzi che ho scritto, mettere i voti a tutti, posso dire che questo sicuramente sarebbe il romanzo con il voto o più alto o appena più basso di un altro romanzo. Sicuramente tutti gli altri sono decisamente con un voto inferiore rispetto a questo. Ma il voto, facciamo una scala da 1 a 5, questo sarebbe fra il 4 e il 5. C'è un altro che secondo me sta più vicino al 5 e al 4 e gli altri invece tra i 3 e il 2. Mi sento con questo, però mi sembra. No, perché secondo me noi scrittori abbiamo un mio epertrofico che ci porterebbe a dire il mio romanzo è 10, ottimo. Però non è così, cioè, ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli e non si fa, ci poi ce la devono cantare e suonare. No, ma la domanda era un giudizio di tipo a te stessa, cioè nel senso, magari avrei scritti altri dopo di questo, oppure nei scritti altri prima di questo. Il primo libro è ovvio, con la scala di questo sono molto contenti, quindi sono nella parte più alta della scala. Una votazione personale tua. Esatto, non paragonandomi ad altri scrittori. No, 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 non era in città. Come la ragione tua nell'ambito della produzione letterale. Allora, a me piace tutta la scala da 0 a 10, però mi provo un po' col voto che hai messo tu, che tu tra il 4 e il 5 sarebbe per me il 9. E del 9 è nella mia mente, perché se io potessi, io scriverei pagine, pagine, ma molte pagine quando scrivo. Quindi ho cercato di limitare il numero delle pagine, quindi era 10, perché se avessi potuto scrivere più pagine le avrei messe, ecco, per questo motivo qua. Cosa io? Vai. La parte del tuo romanzo che preferisci? Chi ci pensa e chi risponde? Allora, la parte del romanzo che preferisci sono le ultime tre faggine. No, oltre il finale, quelle che vengono successivamente al finale. L'indice. L'indice. L'indice, no, perché l'ha fatto l'editore. L'indice è una scrittura che sento, mi cambia lo stile, ed è una scrittura che più consona al mio modo di scrivere. Mi esce molto naturale quel modo di scrivere. Invece a me la parte che piace di più è il momento in cui Fosco va su web e cerca di trovare su web delle situazioni che sono analoghe alle sue, sulle varie forme. Uno scrive a me, è successo questo, soprattutto le forme d'amore. No, come si è ricompostati voi. Quindi lui, la sua domanda è, io ho trovato un'altra donna, mia moglie è incinta, la farmi cerca le situazioni, e io ho perso una testa e quindi trovo una serie di risposte contrastanti tra chi gli dice la vita è una e la devi vivere e chi gli dice no, allora perché ti sei sposato, eccetera. E siccome io ho visto su fuoco, sono andato, ho trovato questa valutazione di risposte e mi sono molto divertita perché vedi proprio la diversa filosofia della gente e l'accrociata situazione, quindi che ritorno un po' su quella che è la statistica cristiana poi che abbiamo tutti quando approcciamo situazioni simili, a seconda della nostra personalità. Quindi mi è piaciuto quando lui a qualcuno che gli piaceva di più, che è quello che voleva sentire, è più contento, quando sente qualche risposta che non gli piace, mi comincia a valutare perché è risposto così e a sminuire anche, diciamo così, la capacità di la scritta, esatto. Sì, che gli era venuto perché si è venuto. Sì, che gli era venuto. Sì, che gli era venuto.